C'è un'altra parte, signor Faulkner. Si salpa per Chesapeake Bay. Lafayette mi ha promesso un'intera flotta e un capitano senza fari. Invece mi ritrovo soltanto con una bagnarola e un ragazzino al timone. Noi non vi deluderemo, ammiraglio. Ne dubito assai, ma che alternative ho? E le navi che ho chiesto? Sono vostre, ma a patto che sopravviviamo. E cosa volete che faccia? Tenete la baglia mentre attacco la flotta. Se le navi inglesi osano avvicinarsi, affondatele. Dobbiamo proteggere gli octavoli. Noi non vi deluderemo. Noi non vi deluderemo. 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 E nicchino arrivo. Noi non vi deluderemo. Non vi deluderemo. Non vi deluderemo ai posti. Signior si? Pronti, signore. Fuoco. Siamo pronti! 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 Signore! Siamo pronti! Siamo pronti! Siamo pronti! Siamo pronti! Siamo pronti!